pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati il 6 gennaio celebriamo la solennità dell'epifania la festa della manifestazione del signore a tutte le genti simboleggiate dai magi il vangelo mette in luce il cammino di questi uomini che si lasciano attirare dalla luce di una stella che hanno il coraggio di mettersi in cammino che non si scoraggiano davanti alle difficoltà e con perseveranza arrivano davanti a gesù lasciandosi cambiare da questo incontro forse proprio questo loro dinamismo questa instancabilità nella ricerca è ciò che ci affascina ci attrae ci ricordano che la vita e soprattutto la vita cristiana è un camminare non a caso i primi cristiani erano chiamati quelli della via che appartengono a gesù e camminano con lui e verso lui verso una pienezza alla quale ogni giorno sono chiamati a tendere dunque miei cari è bello anzitutto chiedere al signore questa grazia di risvegliare la voglia di camminare di tendere alla santità grandi avversari del camminare sono la tiepidezza la pigrizia e la rassegnazione la tiepidezza proprio di chi non sa più mettere il cuore in ciò che fa la pigrizia che ti porta a rimandare perdendo occasioni preziose e la rassegnazione la perdita di speranza capace di spegnere il cuore chiudere gli occhi davanti alle tante novità che ogni giorno ci vengono offerte vogliamo ora provare a scandire le tappe del cammino dei magi in modo che ognuno attraverso piccoli e semplici spunti possa ritrovarsi a seconda del proprio cammino i magi vedono sorgere una stella una stella meravigliosa lucente diversa cosa scelgono di fare pensate tanti la vedono loro si mettono in cammino lasciano dunque che il creato gli parli del creatore si lasciano interpellare dai segni che dio semina nella realtà concreta potremmo dire nella realtà di ogni giorno vedete miei cari il creato ci parla di dio è la prima rivelazione di dio la rivelazione naturale come un'opera d'arte ci rimanda all'autore così il creato ci rimanda al creatore questo ci dice anche che dio ci parla ogni giorno attraverso la realtà che ci circonda anche attraverso gli eventi il punto è noi guardiamo distrattamente le cose o cerchiamo di cogliere il senso delle cose e di ciò che ci accade lasciamo che tutto scorra come se fossero una serie di cose a caso o di eventi ininfluenti o cerchiamo di cogliere ciò che dio può dirci dietro tutto ciò ma non solo miei cari dio ha disseminato di luci la nostra vita sin da quando siamo piccolini ci sono stati momenti particolari nei quali la grazia ci ha toccato momenti di intuizione profonda sulla nostra bellezza o su quella che poteva essere la nostra vocazione la nostra missione dio semina di luci la nostra storia ci attira a sé e verso il compimento della missione che ci ha affidato ci potremmo chiedere quali sono quelle luci belle quelle intuizioni profonde quelle grazie che dio mi ha donato che mi spingono a camminare che mi attraggono all'amore vero i magi dunque si mettono in cammino e arrivano a gerusalemme e cercano naturalmente il re dove ognuno lo cercherebbe cioè nella reggia ma il re non è lì quasi come a dirci ci sono delle luci belle ci sono delle intuizioni delle ispirazioni ma la nostra intelligenza arriva fino ad un certo punto noi tendiamo a seguire le nostre categorie le nostre aspettative ma dio è oltre è altro è diverso arrivati alla reggia trovano un altro tipo di re un re per il quale la stella non è qualcosa di bello un re per il quale l'annuncio della nascita del vero re è scomodo la storia ci ha consegnato un personaggio estremamente ambiguo egocentrico pericoloso erode addirittura è stato capace di far uccidere i suoi familiari per paura di essere usurpato erode è il tipo di re è il tipo di uomo che non vuole essere scomodato e vuole essere lui l'assoluto e il centro di tutto erode è quel tipo di uomo che vive per sé il suo io e dio ciò che conta è emergere e avere potere sugli altri a discapito degli altri tutti in fondo abbiamo qualcosa di erode in noi abbiamo una lotta aperta contro quella parte egoistica che ci porta a voler rifiutare le visite di dio a chiudere il cuore alla sua parola a rispingere le ispirazioni dello spirito laddove ci muovono a donarci di più scomodandoci dai nostri falsi troni addirittura erode dopo la descrizione che faranno gli scrivi chiama segretamente i magi cercando di ingannarli invitandoli a prendere informazioni a fargli sapere dov'è questo bambino perché lui possa adorarlo noi sappiamo bene che sta mentendo il suo unico obiettivo è far fuori questo bambino erode in fondo rappresenta una mentalità menzognera e di morte potremmo dire rappresenta il male stesso noi dobbiamo sapere che nel cammino di questa vita incontriamo anche mentalità avverse tentazioni abbiamo un nemico un nemico che instilla menzogne che semina morte che ci vuol condurre fuori strada è dunque importante imparare a discernere ciò che viene da dio da ciò che non viene da lui i pensieri e le ispirazioni al bene che dio suscita le suggestioni al male che il maligno scatena ci potremmo domandare quanto cerco di discernere la volontà di dio cerco di essere attento a ciò che mi passa per la testa ciò che sento tendo a partire in quarta o a discernere a riflettere sull'origine delle mie ispirazioni e sulla conseguenza delle mie azioni santo masomoro diceva prima di agire pensa prima di pensare prega giunti a gerusalemme i magi per proseguire il loro cammino hanno bisogno di un'altra luce più potente la luce della scrittura gli iscrivi indicheranno loro le coordinate il bambino nascerà a betlemme tutto l'antico parla di gesù tende a gesù e si compie in gesù questo ci può dire anche per il nostro cammino che non bastano le ispirazioni interiori né tantomeno le intuizioni belle abbiamo bisogno della scrittura tutto ciò che mi passa per la testa e nel cuore va vagliato filtrato illuminato dalla parola di gesù è quello il primo e fondamentale criterio per capire la bontà di qualcosa che mi passa nel cuore i magi si rimettono in cammino la stella era sparita quando entrarono nella reggia ora rieccola splendida luminosa così anche per noi quando andiamo fuori strada si spegne la luce diminuisce la gioia quando ritroviamo il percorso e muoviamo nuovamente passi nella direzione giusta torna la gioia entrati nella casa viderò il bambino con maria sua madre si prostrarono e lo adorarono adorare un atto riservato a dio riconoscono in quel bambino non solo il re dei giudei ma qualcosa di più dio stesso successivamente dopo aver offerto i loro doni avvertiti in sogno di non tornare da erode tornarono per un'altra strada come a dire quell'incontro con gesù cambia il loro percorso tornano a casa diversi anche noi siamo chiamati ad entrare nella casa figura della chiesa dove troviamo il bambino quel dio che ancora oggi si fa piccino nell'eucaristia con maria sua madre anche noi siamo chiamati a prostrarci a lui ad adorarlo a celebrare l'incontro con lui specie nella liturgia ad incontrarlo nella preghiera personale meditando la sua parola e ogni incontro vero con lui ci cambia ci aiuta a tornare a casa per un'altra strada quella parola ascoltata con fede quell'incontro partecipato attivamente quel momento vissuto profondamente lascia tracce di eternità plasma il nostro cuore conformandolo al suo cari fratelli e sorelle chiediamo che il cammino dei magi risvegli anche in noi il desiderio di camminare di essere santi e di muovere i piccoli possibili passi nel bene che qui ed ora possiamo compiere affinché la nostra vita brilli della sua luce e a nostra volta possiamo diventare stelle che conducono tanti a lui che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti